Ciao a tutte e a tutti, oggi è vero di primo gennaio 2010, coroniamo, vi faccio i migliori auguri per un stupendo, meraviglioso, fantastico 2010, naturalmente da Emanuele Carioti e dalla community, web community di Ematube, mi raccomando visitate e registratevi sul mio sito. Ciao a tutte e a tutti, tanti auguri!